Febbo, voi contestate la nomina di un dirigente amministrativo della ASL 2 di Chieti, perché? Perché prendiamo atto che questa dottoressa ha presentato lo stesso titolo per cui è stata nominata solo per tre anni, quindi non ha il requisito di cinque anni, alla ASL dell'Aquila, perché non Mauro Febbo o il gruppo di Forza Italia, ma perché il Tribunale dell'Aquila ha detto chiaramente che i titoli presentati non corrispondono a ciò che è richiesto. D'altronde bastava chiedere alla direzione regionale della sanità o andare su internet per scoprire che quella struttura a cui fa riferimento la dottoressa è un grande albergo per anziani, non è una struttura socio-sanitaria, perché non ha l'accreditamento. Quindi voi cosa chiedete adesso? L'immediata revoca di questa nomina è se la ASL ritiene gli estremi di inviare queste carte all'autorità. E' chiaro che se questo non dovesse avvenire agiremo noi di conseguenza. Lei diceva in conferenza stampa che non è la prima volta che accade questo. Ma noi diciamo che sulle nomine in generale abbiamo avuto almeno sei episodi dove io ho anticipato chi vinceva il bando o l'avviso. Quindi questo è un modo di operare che a noi non piace, intanto perché non piace che vengono presi in giro i giovani e non vengono presi in giro i professionisti che rispondono ai bandi. Poi qualche altra volta riteniamo che sotto alcune nomine ci siano delle strategie che a noi non suscita trasparenza.